Scalabas 17, Giovannelli 18, Leandrine, allenatore Benetti Luciano Con l'interore... Scalabas, prendiamo! Uuuu, Maremma! Che gioco di gambe! Fai là! Sul mezzo! Non credere dietro! Forca boia! Il tiro! Il palo camaroso! Paolo Martini fuori! Dio, ma che roba brutta! Paolo Martini! Miracolo! La paratona! Attenzione, Stocco Drabagnieri nel corso di mezzo... La spizzata! E c'è il gol! Il gol di Stefano Stocco! Stocco! Odorico! La sciabolata morbida verso Paolo! Stop! Impossibile! Non ci riesce! La palla verso Bianco! Stocco! Deviata! Occasione stupenda! Bambola! Ho giocato l'anno e tre e mezzo! Oggi segna Scalabas, sì lo dico! Lei porè! Giocaglielà! Sì! Benvenuto tutto solo! Benvenuto! Guarda là! Bravo Arce! Dai bianco! Sì che sei buono! Stefano se tagliava Stocco era buono! Boom! È buono eh Paolo! Non la stralzarla perché sennò ti corro dietro eh! Paolo! 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 Miracola! La palla rimane lì! Benvenuto! È sul sinistro! Benvenuto! 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 Rientra! Benvenuto! Sul destro! E c'è il gol! Benvenuto! Benvenuto! Mirko! Benvenuto! Che sta facendo hai visto? Mister! Benvenuto! 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 Pallo le prende! Fugo! Sopra! Fugo! Mamma mia che palla! È buona! Bianco uscita in ritardo al portiere! Oddio! Oddio mamma! Oddio mamma! Mettete dentro la biancheria perché mi sa che piove! Bravo Sopra!